21esima puntata di Pedagogia Nera So! So, so, pedagogia nera so, 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 so! Proseguiamo la lettura del libro di Faber e Madlisch dal titolo Come parlare perché i bambini ti ascoltino e come ascoltare perché ti parlino. E io son bella pronta ad ascoltarti, ne madame? Siamo ancora nel capitolo di Come promuovere l'autonomia e oggi le due autrici ci suggeriscono Non privateli della speranza. Buona parte del piacere della vita sta nel sognare, fantasticare, pregustare, progettare Cercando di preparare i bambini a una possibile delusione possiamo privarli di esperienze importanti Lo so, lo so, sono un po' una mamma chioccia ne ho sempre paura che si facciano male, che siano tristi che si prendano delle tramvate nel muso Magari è comprensibile cercare di evitargli una tramvata nel muso però quello che ci raccontano oggi le due autrici è più legato al non spegnere, il desiderio, la fantasia il proiettarsi in un futuro in un determinato modo Va bene, ne? Allora ascoltiamo un po' di cosa si tratta o bastala Un padre ci parlò della figlia di nove anni che aveva sviluppato una passione per i cavalli Un giorno gli chiese se l'avrebbe comprato un cavallo ci confessò che c'era voluto un bello sforzo per non dirle che era fuori questione a causa del costo, dello spazio, delle ordinanze comunali e invece di dirle appunto tutto questo gli disse Ah, quindi ti piacerebbe avere un cavallo tutto tuo? È così? Parlamene un po' Poi l'ascoltò mentre lei descriveva nei dettagli che gli avrebbe dato da mangiare lo avrebbe strigliato e portato anche tutti i giorni a fare una cavalcata Il solo parlare del suo sogno sembrò soddisfarla La bambina non gli fece mai delle pressioni vere e proprie per acquistare davvero un cavallo ma dopo quella conversazione la bambina prese in biblioteca dei libri sui cavalli disegnò dei cavalli e cominciò a risparmiare sulla paghetta per comprare un giorno il terreno per il suo cavallo Qualche anno dopo si propose addirittura ad un maneggio nella zona per andare a dare una mano chiedendo magari di essere pagata con qualche cavalcata A 14 anni il suo interesse per i cavalli svanì e un giorno annunciò che con i soldi per il cavallo si sarebbe comprata una bici a 10 marce Guardala!